segui la 7 anche su instagram la 7 ovunque con te allora pieno tu una paura che vorrei che perché vorresti per dieci minuti ai dieci minuti per fare una cosa che non hai mai fatto che hai sempre avuto paura di fare ma che nel farla come ci insegna il film ti sblocca ti aiuta non riesco a vederla io ho l'unica paura che so di avere e che confesso è della paura delle isole piccole delle isole piccole soffro di claustrofobia in un'isola diciamo più piccola della sicilia la sicilia è il minimo anche malta va bene quindi l'elba no per dire l'isola delta non se ne parla niente ti proponevo l'ipari no figuriamo salina meravigliosi anche per sogno niente maldive quindi no no ma tu devono essere proprio sardegna va bene sì ecco dalla sardegna va bene perché ti senti un po chiuso diciamo sento una sorta di claustrofobia non posso scappare ma non è grande però l'elba pensa che invece sulle barche sto benissimo anche napoleone la toglia dalle cioè si può scappare infatti poverino io non oso immaginare sant'elena un buco no io pensavo all'elba prima da qui è scappato sant'elena in effetti grazie Grazie.